amici bentornati sul mio canale oggi parliamo di un problema che per quanto riguarda la mia zona ma penso anche in altre zone l'italia è molto ma molto frequente il problema degli animali selvatici tipo cinghiali caprioli istrici tassi ma tutto quello che può esistere nel bosco ora vi faccio vedere cosa combinano un po nel mio podere allora partiamo di qua questa è una pianta di mele loro per mangiare le mele guardate cosa fanno troncano i rami più bassi poi se notate mangiano mangiano tutto cioè dove arrivano loro distruggono qui avevo messo come vedete il cavolo nero guardate che casino che hanno fatto adesso sto aspettando che ho dovuto ricomprare un altro elettrificatore perché laggiù di sotto ho dovuto tutto elettrificare sperando che vada bene qui guardate hanno buttato tutta l'aria qui c'erano tutti i cavoli neri buttati tutti all'aria adesso li lascio così non ci sto neanche più a mettere mano guardate guardate che casino e aspettiamo che appunto che appunto arrivi questo elettrificatore poi faremo questo pezzo qui metteremo tutto tra virgolette in sicurezza qui avevo già messo questa rete qui ma me l'hanno già tirata giù due volte questa notte non è venuta ora domani dovrebbe arrivarmi l'elettrificatore per cui speriamo bene il problema dei cinghiali poi da noi vi racconta anche questa qua perché sembra una barzelletta ragazzi io non so di chi sia la colpa ok comunque c'è la peste suina quindi cosa hanno pensato bene dato poi è tutto travi travi virgolette la peste suina lo dicono loro perché magari hanno trovato un cinghiale su mille e comunque niente hanno bloccato la caccia quindi quest'anno non si farà neanche la caccia al cinghiale perché immaginatevi voi che si riproducono come i maiali perché la famiglia è la solita quanti ce ne saranno la prossima primavera cioè sarà davvero davvero da divertirsi quindi quest'anno non fanno la caccia il prossima primavera ci sarà il mondo cioè i cinghiali già adesso mi vengono sotto casa figuriamoci la prossima primavera tutto questo niente è voluto ragazzi è voluto loro non vogliono che tu fai più niente cioè non ti devi prendere quindi non ti danno la possibilità neanche più di prenderti un maiale quindi non devi più farti i tuoi salumi la tua carne non puoi non puoi perché loro dicono che c'è questa peste suina poi vi faccio vedere allora qui abbiamo detto il cinghiale cos'è che fa andiamo a vedere di qui a qui dove c'è un'altra mela me l'avevano già distrutto un anno infatti vedete c'è tutto rumato anche qua tutto rumato perché c'erano quelle quattro melette attaccate niente ma hanno fatto fuori se ne sono rimaste due due melette questa guidata che è piccolissima la magia e ancora un po c'erano va bene le olive non le toccano perché sono aspre per fortuna almeno quelle tipi neanche qua ho dovuto tutto elettrificare perché il capriolo mi divorava praticamente tutti i fagiolini e quindi ho dovuto praticamente recintare tutto questa qui è una mela che non ce n'è rimasta attaccata neanche una infatti sotto c'è tutto bello pulito andiamo a vedere voi vi faccio vedere un altro pezzo che è veramente qui come vedete c'è rumato anche qua però qui non ce n'è di frutta quindi è venuto a rumare magari sentendo dei guardate qua guardate qua c'è un rumato di fresco guardate che sembra sembra fresato ragazzi qui uguale ho dovuto questi ormai sono partiti però all'inizio mi aveva tutto rovinato questi cavoli avevo messo questa recensione qua volante un po salvato abbiamo poi il problema qui c'ho le zucche che capriolo e istice ne va veramente gli otte tante erano già tolte ecco qualcosa che fa guardate eccola qua vedete questa vela fresca è venuta a mangiarlo stanotte vedete in più guardate pomodori mi mangia guardate qua li tira giù ora non so se il cinghiale o chi o che peperoni questi sono in tanti di peperoni tutte rovinate guardate ora tutte mangiate guardate come fa il capriolo allora e per chi forse non lo sa il capriolo in italia è il paese che ne ha di più in tutta europa anzi andate a vedere le statistiche ci sono fra un po più caprioli in italia che in tutta europa per dirvi che magari gli animalisti dicono potrebbero pensare che ma gli animali ci devono essere nel bosco sì ma se ce ne sono troppi c'è qualcosa che non quadra ok mi viene fin da pensare che niente dobbiamo essere eliminati noi devono praticamente alla roba deve arrivare dall'estero perché ci sono ci sono si vede delle convenienze per chi decide queste cose qua perché se no non si spiega questa tra virgolette politica di hanno buttato il lupo cosa serviva a buttare il lupo per l'equilibrio vi faccio questo esempio hanno buttato il lupo un amico che abita lì sotto aveva dieci pecore a luglio li hanno fatte fuori tutto il mese 7 cena 3 e lui ha detto che quando finiscono anche con i tre lì basta lui non tiene più il cinghiale mangia l'uva in due o tre hanno recintato gli ha rovinato anche recinto hanno detto che basta abbandona questa qui è tutta una vigna tutta abbandonata per esempio e quindi cosa cosa succede che questo diventerà un bosco lui le pecore le butterà via cioè le butterà via non le prenderà più quindi li diventerà un altro bosco e via che andiamo cioè è una cosa che è voluta ora vi racconto questo io quando ero piccolo qui mia nonna aveva la manzetta non la chiamava la manzetta poi faceva il vitello quindi ci si faceva la carne per noi faceva il latte il formaggio tutto per noi e ne aveva una barra due poi a volte diventavano tre poi uno lo vendeva insomma si si autosostentamento come si dice in più mangiavi la roba buona il vicino aveva mi sembra quattro mucche e addirittura qui c'era qui avevano diciamo così creato un latte tipico della nostra zona e quindi venivano a prendere il latte di qua e il latte di sotto che c'era un'altra famiglia che ce ne aveva 7 8 tutto questo è andato a sparire cioè qui praticamente ci sono uno due tre case in tre case ci saranno state tipo 15 16 mucche magari nel paese di fronte ce n'erano altre 40 cioè oggi mucche qui non ce l'ha più nessuno tutto questo perché poi si sono inventati mille cavolate e quindi hanno tagliato fuori diciamo il piccolo perché troppe rogne uno inizia a dire ma cosa me ne frega quindi basta eliminato e ora lo stanno facendo con gli animali cioè ti portano all'esasperazione a dire ma cosa devo fare per un grappolo d'uva per due pomodori cioè ti porta l'esasperazione e quelli che dicono si devi recintare se uno avesse un campo tranquillo la recinzione non è niente e poi quello lì d'uva lui ha recintato ma gli hanno buttato per aria anche il recinto per cui c'è poco da fare e vi faccio vedere qui ho messo questa rete qui un po il capriolo l'ha salvata e ci sono delle piante di peperoni che sono venuti si sono richiapati ma ci hanno messo ragazzi ora vi faccio vedere poi non vi faccio vedere tutti i campi a poi tirano giù i muretti ora vi faccio vedere guardate siccome che il cinghiale dal cavolo nero viene giù come vedete qui ha tirato giù tutti i sassi e adesso praticamente poi li devo ritirare su e lui poi mi ritira giù tutta fatica inutile guardate come arruma arrumato qua sotto il fico e guardate qua guardate qua come si diverte e niente sotto la mela per chi cerca le mele quelle che erano cadute st'estate niente ragazzi è così quindi questo è un video sfogo io continuerò ma credetemi quest'anno è è stata veramente un'annata da dimenticare tra le piogge tra le bestie veramente da dimenticare dai ragazzi ci vediamo al prossimo